L'Agenda Digitale Europea, una delle sette iniziative FARO individuate nella più ampia strategia Europa 2020, indica gli obiettivi e le azioni per lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'economia digitale. Al tema della rivoluzione digitale è dedicato l'ultimo numero di Statistiche Flash, la pubblicazione periodica curata dalla sezione Sistema Statistico della Regione. L'Agenda Digitale del Veneto ha già visto l'investimento di circa 100 milioni di euro in diverse iniziative, finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee. In attuazione del programma di governo presentato a inizio legislatura, la Giunta regionale sta adottando della banda larga e ultra larga anche i territori veneti ancora non serviti dal mercato, in quanto considerati non appetibili. Sono già stati realizzati circa 400 interventi di posa di fibra ottica e servizi di connettività in 703 località della Regione Veneto, finora non servite. Dai dati statistici risulta che in Veneto nel 2014 usa Internet in modo regolare il 61% della popolazione tra i 16 e i 74 anni, il 59% in Italia e il 75% nell'Unione Europea. In costante crescita negli ultimi anni, ma rispetto agli obiettivi europei, sono ancora troppi gli esclusi digitali. Un Veneto su tre non si è mai connesso ad Internet. L'88% degli internauti veneti manda o riceve email, il 68% legge giornali o riviste online e il 58% utilizza i social network. Rispetto alle abitudini dei cittadini europei, Internet è invece ancora poco usato per relazionarsi con la pubblica amministrazione e per effettuare attività transative come l'home banking o gli acquisti online.